Da un certo punto di vista co-progettare si sta pensando, si parla di territorio e città, quindi comune di Como, comune di Lecco, Bergamo. Il vincolo e il legame invece col territorio, quindi se si fa un bando comunale per un servizio e quali sono i legami invece col territorio sostanzialmente, che non è solo il comune che fa il bando ma che poi è tutto il territorio dell'apparato, dei piani di zona, piuttosto cose di questo genere. Il vincolo.